Patti, un 0-0, la Casertana ci ha provato soprattutto nella ripresa, però siete usciti tra i fischi. Sì, vabbè, ma comunque i fischi sono giusti, anche perché diciamo che tra i tifosi giustamente c'è una delusione perché sappiamo che ormai l'obiettivo che c'eravamo prefissati, che era quello di vincere il campionato, non è più raggiungibile quindi adesso, oggi, ci voleva magari un risultato positivo, cioè è arrivato un risultato positivo, però ci volevano i tre punti per calmare un attimo l'ambiente. Purtroppo non ci siamo riusciti e quindi è giusto così. Al momento sembra che siete bloccati psicologicamente perché insomma in campo dominate. Sì, sì, va bene, però comunque ci può anche stare un piccolo calo mentale, però una squadra forte e importante come la nostra non dovrebbe averlo. Però noi ci prendiamo tutte le responsabilità, naturalmente io insieme a tutti i compagni e sicuramente ci servirà per crescere e arrivare al massimo ai play-off. Messina, Valle Grecanica, forse coraggio noto, sono 12 punti sulla carta, bisogna guardarsi dal Sambiase? No, vabbè, adesso non la facciamo drastica. Noi comunque blinderemo sicuramente il terzo posto, è fuori di dubbio, ci metto la mano sul fuoco perché conosco tutti i miei compagni e so quello che possono dare e quello che daremo. Quindi per il terzo posto non credo ci siano problemi. Il problema potrebbe essere non arrivare al meglio ai play-off, ma sicuramente da oggi in poi cresceremo fin quando arriveremo alla data prefissata per i play-off al massimo. Invece i tifosi che vi hanno sostenuto fino alla fine, però poi alla fine partita, insomma, hanno espresso il proprio malcontento, che cosa senti di dire? No, no, ma assolutamente, ma niente, cioè i tifosi possono e devono fare tutto quello che vogliono, perché comunque noi siamo degli ospiti che indossiamo la loro maglia, perché in fin dei conti è la loro maglia, è la loro città e loro sanno bene quello che vogliono e quello che devono fare. Quindi se hanno deciso di fischiarci a fine partita un motivo ci sarà e gli va dato atto di quello che fanno.